Vittoria importante per la metateramo che all'overtime ha battuto di due punti la stella azzurra Roma. Sì, ci siamo tolti il problema di arrivare alla meta dei 24 punti che ci danno la quasi sicura salvezza in questo primo campionato di Serie B. È una vittoria importante anche per il morale perché la squadra veniva da un periodo no? Un periodo no ma è importante per come si sono succeduti gli eventi all'interno della partita con un arbitraggio al di fuori di ogni normale comportamento, antisportivi, espulsioni del coach di due giocatori e quindi una partita che avevamo condotto finché si giocava a palaccaresti in maniera tranquilla quando i protagonisti sono diventati gli arbitri il problema si è complicato. Adesso la meta si trova in una sorta di zona franca in classifica. A questo punto a cosa guardate? Qual è l'obiettivo? Naturalmente guardiamo in alto. L'obiettivo minimo è stato raggiunto ma l'obiettivo vero e neanche tanto nascosto di tutti quanti noi è quello di arrivare a playoff quest'anno. Abbiamo perso due occasioni, ce ne sono altre da cogliere al volo. Ancora abbiamo sei partite con un campionato non proprio facilissimo ma a questo punto dovremmo giocare con una mente libera e scarica per poter dare ai nostri tifosi, ai nostri sponsor, a noi stessi quella soddisfazione di aver fatto un campionato più che onorevole per il primo anno di Serie B.